Non ti sopporto più, non ti sopporto più, Pioli, non ti sopporto più, fate schifo alla merda, fate schifo alla merda, siete inguardabili, siete senza un briciolo di dignità, fate cagare, strappo per Pioli, sei il primo che fa cagare, sei la rovina di questo Milan, di questa disfatta, rotoli di cartigenica, perché voi fate schifo alla merda, se guardo la merda, è più bella di voi, fate cagare, uno strappo anche per Cardinale, tu hai proprio la faccia di merda, Cardinale, che a gennaio non hai preso un cazzo, non hai preso, questi sono i risultati, siamo la vergogna del calcio, non vi sopporto più, ormai la Champions ce la sogniamo, non ci andiamo più in Champions, a fine stagione fuori dal cazzo tutti, fuori dal cazzo tutti, perché non vi sopportiamo più, a me non frega un cazzo adesso quello che fate martedì, non vi sopportiamo più, siamo stanchi di guardarvi, siete indecenti, undici morti in campo, presi a schiaffi dallo spezza che non vince, da un'eternità non vince, doveva aspettare noi, poi facciamo anche le sceneggiate, fate lo schiaffetto di Girù, quell'altro salamecker che si incazza, devi incazzarti salamecker perché fai cagare, fai, sei cacamolli, siete molli, non valete un cazzo, non valete un cazzo, non ci avete un briciolo di dignità, la dignità non sapete manco che cazzo sia, però avete passato tutta la stagione a chiedere aumenti, aumenti, benassero aumento, quell'altro aumento, e poi si vede, Pioli non c'è un briciolo di idea di calcio, tu a te ti ha salvato l'anno scorso, leao, perché il tuo schema è palla, leao, se non c'è leao, poi non c'è schema, fate schifo al cazzo, se non ribaltate la partita di martedì, se avete un briciolo, vi è rimasto un briciolo di dignità, dovete ribaltare la partita di martedì, perché se no siete da prendere a calci in culo, vergognatevi, vergognatevi, primo tu Pioli, vergognati, e poi Cardinali, e poi chi ha fatto la squadra?